Nuovo video magico di YouTube e oggi parliamo a occhio come ti parli, ovvero le parole hanno un potere enorme e soprattutto sono un ultimo gesto di self love. Questa cosa è importantissima, però non ci facciamo mai caso, ma in realtà ci fa davvero cambiare moltissimo, più che altro perché va a parlare al nostro subconscio, non ce ne rendiamo conto, però come noi ci parliamo influenza poi dopo come ci sentiamo e anche la confidence, quindi quel senso di sicurezza che abbiamo di noi stessi. Quindi tutta questa parte adesso riesco un attimino a spiegare e vi spiego davvero come fare attenzione a questa cosa. Se ancora non ci conosciamo, molto piacere, io sono la Cate, che sono una rieta scendente leone con luna in capricorno, quindi vedrete un po' il mio essere wow così, ma lo capirete col tempo. E ho creato Rising Wild che si tratta di quella piattaforma italiana dedicata al lifestyle mistico, perché io cerco di aiutarvi a rinascere con le vostre forze, tramite tutti questi strumenti che abbiamo, che possiamo utilizzare, che sono magici. Quindi abbiamo l'astrologia che ci permette di conoscerci meglio, abbiamo le carte oracolari, i tarocchi che ci permettono di ascoltare il nostro intuito e abbiamo la natura che è la principale maestra di tutto, che ci ricorda come dobbiamo seguire un ciclo naturale per poter stare bene, per poter dare il meglio di noi, per poter proprio vivere al meglio e ottenere tutto quello che desideriamo. Per cui detto questo iniziamo subito a parlare del perché le parole sono importanti. La primissima domanda che vi voglio fare è quella come vi parlate, ovvero io sono sempre stata una che si è sempre parlata in maniera iper, 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 iper critica e questa cosa capita molto, molto spesso a tanti, a chi ha una prevalenza comunque di terra dentro di sé, quindi ha questa tendenza ad essere davvero iper judge, quindi molto giudichevole, se si dice giudizievole, insomma, io e l'italiano abbiamo qualche problema, ma il discorso è proprio quello che tendiamo tante volte a parlarci in maniera molto severa con noi stessi, quando ci parliamo dentro di noi, ah tu non hai fatto bene questa cosa, ah potevi farla meglio ma figurati non ce la farai mai, sei sempre qui che peggiori la situazione eccetera, invece se la situazione succede a uno dei nostri migliori amici o a un nostro parente, conoscente eccetera, non gli diremmo mai queste cose ma saremo sempre molto più gentili, utilizzeremo più tatto. Per cui la domanda qui è questa, perché con loro sì e con noi stessi no? Cioè nel senso il discorso è quello che noi siamo la persona che staremo sempre al nostro fianco, noi saremo il meglio che possiamo avere dalla vita, per cui perché ci trattiamo così male? Anche con le parole, le parole hanno un potere enorme, perché quello che ci diciamo, anche se non lo pensiamo, la nostra mente, come dire, la nostra mente subconscia più che altro non differenzia questa cosa, per cui se noi continuiamo a dirci, ah non sei abbastanza bravo, potevi fare meglio, ah non va mai bene questo eccetera eccetera, magari non lo pensiamo, anche se ci diciamo, ah ma sei stupido, ma guarda potresti, anzi, io mi sono sempre detto questa cosa, avrei sempre preferito e ho sempre sognato di essere stupida, perché per me l'intelligenza era questa cosa, come dire, è sempre stato un fardello per molti ambiti, però ovviamente non lo pensavo, non ero seria quando mi dicevo queste cose, però continuavo a dirle. E allora poi funziona questa cosa, che il nostro subconscio va a prendere queste cose e le immagazzina dentro di noi, sempre più dentro, per cui queste però poi le porta fuori, le porta al di fuori in atteggiamenti, come dire, di insicurezza, in cui non ci sentiamo pronti per fare le cose, in cui tenteniamo, in cui abbiamo paura, in cui non ci sentiamo al meglio, tutte queste cose derivano da come ci parliamo, per cui partendo da questa base, fateci caso, perché funziona così. Adesso io ve lo dico e vi rendo consapevoli di questa cosa, così che la prossima volta che vi parlerete a voi stessi, vi direte comunque in maniera un po' iper mega severa, ah hai fatto male, ah non dovevi fare così, ah ma guarda che secondo sei stupido, perché hai fatto questa cosa, sei sempre così, non ce la fai mai, in quella fase lì magari al primo scatto non lo capirete, ma la volta dopo, come dire, sarete come voi, presi e portati al di fuori, quindi come se fosse una terza persona che guarda la scena e vede, oh mi sto parlando in questa maniera, aspetta che non va bene, perché queste cose che mi dico poi dopo entreranno dentro il mio subconscio e usciranno nella maniera magari di insicurezza, cioè tra tutto quello che vi dicevo prima, per cui la seconda volta poi lo vedete, la terza volta invece fate uno scatto in più, siete già nel momento in cui vi state dicendo queste cose, e direte no no no, aspetta aspetta, non mi devo dire queste cose, perché se mi dico queste cose, continua, come dire, questo pattern sempre negativo. Invece se uso questa mega cosa che si chiama self love and self care, per cui self love è, si parla di compassione, di volerci bene, che appunto non è semplice, difficilissimo, serve un percorso per farlo, però pensiamo, come dire, a parlarci come parleremo a un nostro amico, quindi cerchiamo di essere un po' più gentili, più cauti nelle cose, dire guarda ok, potevi fare meglio, ma questa prima volta è stato così, appunto la prossima volta andrà meglio, sarai più sicuro di te e uscirai meglio nell'avventura, insomma quello che stavi facendo, è una circostanza che non è andata bene, senza dire invece no, guarda sei stupido, non ce l'hai fatta ancora questa volta, ma che schifo, non ce la farei mai, bla bla bla. Vedete come i due atteggiamenti e le due parole sono molto diverse, quindi piano piano farete molto più caso a questa cosa e inoltre arriverete proprio a non distinguere più le cose, come dire, a venirvi in automatico questo processo, no? Tanto che vi capiterà appunto quando leggete cose o leggete messaggi o scrivete anche alle altre persone farete molto caso a quello che direte, perché di nuovo le parole hanno potere, hanno importanza, quindi se scrivete qualcosa, lo scrivete sempre in maniera negativa, la negatività tornerà contro se invece parlate in maniera attiva, in maniera appunto propositiva, di nuovo queste cose entreranno nella vostra vita. Quindi noterete anche magari come le altre persone parlano con voi, come vi scrivono i messaggi che ricevete e non riuscirete più, come dire, a non farci caso, sarete molto più sul pezzo, molto più consapevoli e direte ah aspetta questa persona comunque si sta, tra virgolette, autosabotando con le proprie parole e non se ne rende conto. Quindi amplirete la vostra conoscenza e riuscirete piano piano ad aiutare anche gli altri, un pochino a farli un attimino svegliare, perché il discorso è questo, di renderli consapevoli, vispi, smart e, come dire, più critici con tutto, non di prendere le cose così come vengono senza mai farsi delle domande, ma invece essere abili a vedere le cose, farsi domande e poi decidere se quella cosa va bene o meno. Per cui come ci parliamo ha una importanza fondamentale e tutto, lo ripeto giusto per farvelo capire bene, ritorna dentro il self love. Se ci vogliamo bene, se davvero ci vogliamo bene, riusciamo a parlarci con compassione, con grazia, con amore e tutto questo cambierà piano piano tutto quello che ci circonda e tutto quello che ci arriva. È una delle fondamenti, una delle basi del self love, perché il self love è quel vero volersi bene, che non è solamente prendersi cura di sé e quindi farsi una maschera ogni tanto, non è questo, e proprio nella vita di tutti i giorni, nella vita quotidiana, riuscire a volersi bene, ma per davvero, ed è un percorso che si fa piano piano, quindi questa cosa delle parole, di come ci parliamo, vi ne renderete conto un po' per volta, come vi dicevo, un processo a più step, quindi nel primo step magari un po' lo vedete ma non riuscite a farlo, nel secondo siete sul momento, lo vedete ma ancora magari quei 5 minuti dopo dite ah cavolo ho fatto così come facevo in passato ma volevo fare diversamente, quindi vabbè, però almeno l'ho visto, quindi la prossima volta, e quindi qua il terzo step, la prossima volta sarò in grado di farlo, quindi di nuovo compassione, grazia e self love, questa è un po' la possibilità, insomma sono quelle cose magiche che magiche non sono, ma sono semplicemente noi decidiamo di volerci bene e questo cambia la visione di tutto, quindi le parole hanno potere, mi raccomando, parlate con voi in maniera gentile, compassionevole, come fareste con il vostro migliore amico, quindi fateci caso, e poi mi fate sapere se questa cosa anche voi ve ne siete resi conto, eccetera, se lo fate anche voi che siete iper criticoni con voi stessi, perché io lo sono, io ne sono sempre stata, ma adesso sto migliorando e vi cambia davvero tanto, per cui niente ci vediamo al prossimo video e mi trovi sempre qua sotto in tutti i vari link, cioè è tutto, quindi per qualsiasi domanda cosa qua sotto, alla prossima!